Nelle cucine si forma molta umidità, che sia acqua stagnante sul top o vapore persistente prodotto dalla cottura. Per garantire un'elevata resistenza all'umidità, testiamo le componenti con diversi procedimenti. Ad esempio i bordi, esposti a vapore acque o bollente. O le parti meccaniche in metallo, a vapori salini molto aggressivi. E tutto questo per simulare una vita utile di almeno 15 anni.